ciao ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale oggi vi parla una eli ammaccata ragazzi ho fatto un volo allucinante domenica in doccia ho fatto un volo pindarico e mi sono ritrovata con le gambe sul soffione della doccia e tutto il resto a terra non riesco a muovermi non riesco a stare seduta troppo tempo non riesco a stare in piedi troppo tempo ma così per tenermi compagnia oltre che tenerla a voi ho deciso di girare questo video che spero sarà un video breve perché altrimenti mi vedrete ballare sulla sedia ho picchiato tutta la schiena ho picchiato all'osso sacro nulla di rotto ma una botta pazzesca e quindi sono anche un po' smortina non è che mi sono truccata ho messo veramente un velo di cipria un po' di blush e rimel sulle ciglia per andare in ufficio perché non potevo assentarmi dal lavoro perché ho una collega che a casa è malattia e però il pomeriggio devo assolutamente andare a sdraiarmi perché non riesco non riesco a stare su ma va bene così è l'età le scemenze che succedono quando ci si scrabba e quando la schiuma nella doccia e sono scivolata come un salame oggi come avrete visto dal titolo per la prima volta sul mio canale un video di prodotti assolutamente flopposi per me ovviamente cioè ci tengo a specificare questa cosa i prodotti che di qua dei quali io vi parlerò oggi sono prodotti con cui io non mi sono trovata assolutamente bene non mi piacciono comunque li finirò perché non non butto nulla ma con molta 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 fatica probabilmente non sono adatti alla mia pelle non sono adatti ci sono c'è un anche un prodotto di make up mi sto trovando veramente male e così va bene ho pensato di presentarveli perché mi piacerebbe magari sapere se invece qualcuno li ha usati si è trovato bene e se magari sto sbagliando io a utilizzarlo se invece avete avuto anche voi le stesse impressioni perché insomma il mondo della cosmesi del beauty è pieno di prodotti buoni buonissimi ottimi ma ci sono anche prodotti che proprio perché ogni pelle è diversa sulla propria pelle non fanno l'effetto che speravamo il primo prodotto che vi presento che vi voglio di cui vi voglio parlare è questo olio struccante che non so neanche come si dica perché a parte la confezione che è gialla così tra l'altro è bellissima la confezione stupenda vasettino di vetro è un olio struccante biologico che ha anche la certificazione cosmos organic ma che ho provato a utilizzare in tutti i modi e a questo punto non so se si può utilizzare come olio sulla pelle perché il profumo è meraviglioso ha un profumo di agrumi fantastico veramente fantastico la densità è una densità molto corposa ho provato a utilizzarlo per struccare gli occhi e si è impantanato tutto ho provato con il batuforo di cotone praticamente è olio puro sulla pelle visto che è un olio struccante ho pensato che fosse idrofilo giusto che si mischiandosi con l'acqua facesse una leggera schiumessa che lavasse assolutamente non riuscivo più a toglierlo dalla faccia avevo proprio un cucchiaio di olio di oliva extravergine sul viso e io non riuscivo più a tirarmelo via insomma non so che modo utilizzarlo ma di cosa sto parlando sto parlando di questo olio che si chiama aspettate puiki naktins yoga yoga e l'avevo comprato non ricordo neanche più dove stavo così un po' incominciando a capire che gli oli struccanti possono struccare che i burri struccanti qual è la loro funzione e ho comprato questo poi avendo finito gli struccanti oleosi che avevo l'ho aperto e niente cioè non riesco assolutamente ad usarlo è praticamente olio puro sulla faccia e in più se ci metto l'acqua diventa veramente una cosa indescrivibile profumo ottimo consistenza buona secondo voi ditemi se io lo posso utilizzare come olio per il corpo perché non so in che maniera finirlo mi spiace ma non so come fare secondo prodotto struccante questi dischetti struccanti occhi che ho comprato in uno delle mie scorribande al dm premetto che io per struccarmi utilizzo sempre e solo il burro è per me lo struccante migliore dal punto di vista oleoso poi ci passo il mio detergente schiumoso e bon finita lì però vi dirò che alcune volte magari sono stanca rientro da una riunione che è mezzanotti quasi luna quindi proprio per velocizzare anche la fase dello struccaggio mi passo un po di acqua micellare per togliere il mascara e su quello non ho mai avuto nessun tipo di problema viene via io generalmente quasi tutte le acque micellare che uso sono quelle della garnier con il quale mi trovo veramente benissimo e però ho voluto provare questi dischetti allora la mia amica simona del blog pensieri e pasticci mi aveva detto che lei li aveva provati non erano questi ma era un'altra tipologia e non si era trovata bene sono imbevutissimi di una sostanza oleosa struccano perché struccano ma tutto quello che vi togliete dagli occhi ve lo ritrovate intorno agli occhi quindi si fa una fatica bestiale a rimuoverlo anche qui la commessa del DM me ne aveva dette meraviglie per me non sono assolutamente ottimali non so come fare a smaltirli non li voglio buttare probabilmente li utilizzerò quando davvero pochissimo trucco sugli occhi e cercherò di finirli ma purtroppo a me non sono piaciuti veramente molto molto difficile da rimuovere la parte oleosa una volta che avete cercato di struccare e tutto il trucco vi è andato intorno all'occhio io non mi sono trovata bene vi chiedo scusa se nei miei occhiali vedete una luce specchiata ma è il sole che finalmente fa capolino nel mio cortile e ho voluto sfruttare la luce giustamente del giorno però specchia e quindi ogni tanto vedrete un colore verde ma è la luce che entra dalle finestre perché la mia cucina è super super illuminata quindi anche questo prodotto a me non è piaciuto fatemi sapere se invece voi l'avete provato e vi siete trovati bene ripeto ancora una volta che questi sono prodotti che non sono piaciuti a me e soltanto a me perché probabilmente ho una tipologia di pelle che non si confa con questi prodotti allora questo è un floppone ma anche non lo è nel senso che è una maschera al collagene botanica al collagene di Pixi che è praticamente uno strato puro di non di vernice avete in mente quel senso di pesantezza sulla pelle io questa la sto usando perché vabbè una volta alla settimana la uso che così la finisco è una maschera notturna che io applico dopo la crema e nonostante la mia pelle come vi ho detto tante volte sia mista grassa alla sera ha veramente necessità di essere super idratata quindi io abbondo con le maschere e tutte le maschere notturne che ho utilizzato anche se ne metto davvero tanta alla mattina la trovo completamente assorbita la pelle è molto morbida molto liscia allora questa quando io mi risveglio comunque la pelle è davvero liscia e bella compatta ma la sensazione che ho io sulla faccia è come se io avessi messo una crema pesantissima che lascia uno strato di grasso di film che non me la fa apprezzare cioè io mi sento un mascherone dopo averla applicata e vi ripeto la sto utilizzando e cerco di finirla sono arrivata a circa metà ma sto facendo una fatica pazzesca poi l'effetto è anche bello sulla pelle per esempio sulla mano non la sento così pesante come sul viso però è un prodotto che sicuramente non ricomprerò più lo terminerò e grazie a dio che riuscirò a finirlo non mi piace proprio e anche qui fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provata un prodotto che per me è carta vetrata sulla faccia lo sto utilizzando a fatica anche perché ho paura che mi bruci veramente cioè brucia in una maniera pazzesca questa acqua micellare bifase illuminante con vitamina g alla rosa canina strucca ed energizza viso occhi labbra efficace sul trucco waterproof questo non è un mio problema perché non uso trucco waterproof non lascia residui oleosi allora non lascia residui oleosi no nel senso che la parte bifasica una è olio e l'altra è acqua micellare quindi sicuramente il residuo oleoso lo lascia ma questo non è un problema perché poi io ci vado ovviamente con il detergente schiumogeno schiumoso ma ok voi la mescolate poi la mettete sul vostro dischetto e appena io la metto sul viso è fuoco fuoco puro quasi è impossibile il tempo che passate per struccarvi io non lo so probabilmente è la mia pelle che comunque essendo anche in una condizione particolare di meno pausa suda molto si disidrata velocemente e quindi è comunque più sensibile ma io questa la utilizzo veramente sto facendo fatica la sto utilizzando una volta alla settimana velocissima e poi la risciacquo subito perché perché per me è impossibile da usare brucia è molto molto potente veramente è fuoco puro tra l'altro ha un buonissimo profumo di rosa si sente la rosa ma si sente anche un profumo agrumato buonissimo il profumo questa mi dispiacerà meno se dovessi proprio non riuscire a finirla buttarla via perché l'avevo pagata sui due euro e qualcosa in sconto al tigotà però ecco no 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 non riesco assolutamente ad utilizzarla questa mi brucia ma non un bruciore leggero è fuoco fuoco che devo assolutamente risciacquarla subito perché altrimenti ho paura che mi faccia uscire poi delle imperfezioni le mie venuzze di di rossori poi si accentuano ancora di più penultimo prodotto questo volume boster lash primer di essence allora premetto che io con essence mi sono trovata bene con tutti i prodotti che ho utilizzato e vi dirò anche che probabilmente questo non sono capace di utilizzarlo allora nella mia fase make up per essere una diva ho voluto provare un primer per le sopracciglia perché alcune volte io vi ho detto che mi trucco alla mattina verso le 6-6 e mezza e poi ora che mi strucco sono le 10-11 di sera quindi capite voi che dalle 6 della mattina alle 10 di sera cioè sfido io qualsiasi mascara a non a un certo punto scivolare poi io avendo comunque le palpebre oleose non usando un prodotto waterproof sicuramente alla fine della fiera il mascara a un certo punto cede anche lui alla stanchezza allora questi mi li aveva consigliati la mia amica Antonella e Anto non è che ti voglio dare assolutamente la colpa perché tu ti trovi benissimo io sono contenta ma probabilmente io li utilizzo anche nella maniera sbagliata allora innanzitutto questo è mega mega carico lo scovolino quindi io ogni volta lo devo ripulire perché c'è un quintale di prodotto che praticamente sembro la regina delle nevi quando metto il primer perché tutto mi diventa bianco e già questo mi fa incarognere quindi una volta che poi io l'ho scaricato ben bene e lo passo sulle ciglia ci vuole un botto di tempo ora che asciughi e mi rimane tutto impastato tutto grumoso sicuramente non l'effetto che io ricercavo da un primer ciglia quindi vi chiedo se voi lo avete utilizzato cosa sto sbagliando secondo siccome questo vabbè pian piano lo finirò ne ho un altro che non ho ancora aperto e probabilmente lo regalerò perché non è un prodotto che a me piace e che sulle mie ciglia è performante consigliatemi un per cortesia grazie un primer per ciglia che sia molto leggero molto sottile ma che abbia le caratteristiche di un primer quindi di far aggrappare bene il mascara e che mi faccia durare comunque il mascara più a lungo se ne avete uno consigliatemelo qui sotto nei commenti grazie mille quindi questo anche questo prodotto non so se riuscirò a portarlo a termine è vero che costa 2 euro lo avevo pagato 1 euro e 99 però mi spiace buttare i prodotti a me non piace buttare le cose quindi mi sforzo cioè anche contro la mia volontà di cercare di utilizzarli fino alla fine ultimo prodotto che ragazzi sto facendo una fatica sono quasi alla fine allora di questa linea ne ho sentite meraviglie ma probabilmente allora prima cosa che ho sbagliato io stupida che non amo i profumi gourmand o meglio non amo i profumi che sanno di dolci di torte che ritrovo nella mia cucina ovviamente non li amo sul corpo e io come una stupida cosa sono andata a comprarmi una linea che sa di tiramisù ma il profumo è veramente di tiramisù è una cosa goduriosa è buonissimo ho sentito così ma quando me lo sento sulle gambe sulle braccia mi dà un fastidio tremendo seconda cosa e questa non è diciamo il profumo ho sbagliato io a comprare questa linea se avessi comprato quella alla fragola quella al limone sicuramente mi sarebbero piaciute di più il problema è che io ci metto esattamente un quarto d'ora 20 minuti a far assorbire sia che ne metto poco sia che la pelle sia bagnata sia che esco dalla doccia che è più che umida insomma ora che lo spalmo è della consistenza della crema nivea di una volta che voi spalmate 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 e rispalmate e non si assorbe mai probabilmente è un problema della mia pelle però io questo veramente per me è bocciato non mi piace assolutamente se qualcuno ha trovato un modo per farlo assorbire più velocemente lasciando perdere il profumo di tiramisù che comunque lo devo finire ho comprato anche l'olio corpo quindi sembrerò veramente una vaschetta di tiramisù ogni volta che mi spalmo però l'olio so già che è una cosa che mi piace sul corpo cioè tra la crema tra una crema corpo un olio corpo preferisco sicuramente un olio corpo sia d'estate che d'inverno perché mi piace la consistenza perché mi piace come mi lascia la pelle morbida idratata vellutata questa veramente per me è proprio un no bene io sono stata brava cioè sono proprio due quattro sei prodotti tra i centinaia di prodotti che ho trovato che ho provato che non mi sono piaciuti e che però mi impegnerò a finire bene io vi saluto vi ringrazio di avermi fatto compagnia adesso cercherò di andare a sdraiarmi un pochettino perché veramente la schiena poi cercando di stare rigida mi fa ancora più male piuttosto che mettermi l'olio body e quant'altro una bella sformata di voltaren a volte fa sicuramente meglio quindi sul comodino non c'è soltanto il burro cacao la crema magna e la crema piedi ma c'è anche un bel flacconcione di voltaren l'età c'è e non possiamo nasconderla vi abbraccio vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao 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 ciao